È il momento della chiesa locale raccolta intorno al suo vescovo. La messa crismale segna uno dei riti più conosciuti della settimana santa, quello della consacrazione, con il suggestivo soffio dello spirito, del crisma, dell'olio dei catecumeni e di quello degli infermi. Gli altri due oli sono un po' per il battesimo, l'olio dei catecumeni, in particolare per il battesimo, e l'olio degli infermi, che è l'olio della consolazione. E poi il crisma per il battesimo, cresima, come dicevo, e così via, sacerdozio, indica che c'è la possibilità in tutti gli ambienti, per tutte le persone, di ricevere la grazia di Dio, perché con gli oli si toccano i momenti importanti della vita delle persone. Ancora la vita è scandita dal battesimo, i momenti particolari che possono essere la comunione, la cresima e così via, anche il momento della sofferenza, Dio è compagno del cammino dell'uomo sempre. I sacramenti ricordano che Dio è compagno, ma per la salvezza, per offrire la sua vicinanza, la sua amicizia, il suo sostegno e la sua grazia. Una messa molto simbolica per la Chiesa, raccolta per la prima volta a Campobasso intorno a Monsignor Colaianni, quella nella quale, tra l'altro, tutti i presbiteri rinnovano le promesse della loro ordinazione. Dal Vescovo, nella sua omelia, l'invito ai fedeli a partecipare con profondo senso di fede è uno dei momenti più intensi della vita della Chiesa, come quello della Pasqua. Non solo la gente deve compartecipare, deve comprendere, e sicuramente lo fa, che è il Signore che prende parte della nostra vita. Per cui chiede solo di essere accolto. E siccome il Signore vive lo stare con gli uomini, ma anche la sofferenza che lui per primo ha patito, è da parte di Dio il dire che sono con voi nelle vostre sofferenze, nelle vostre difficoltà, nel vostro cammino di vita. Per cui il Triduo va vissuto non soltanto perché l'uomo si rivolga a Dio in preghiera, ma sappia cogliere come Dio coglie l'occasione dei riti per rivolgersi all'uomo. Grazie a tutti.